Quelli che voi, noi, chiamiamo populismi, sono delle narrazioni deboli, non sono delle immediatezze. Sono delle narrazioni semplificatissime, corte, banali. Cosa importante sarebbe chiedersi perché nascono, ma pare che questo non interessa a nessuno. L'immediatezza, al giorno d'oggi, non c'è, virgola, per fortuna. Cioè, l'avete capito che l'immediatezza è la violenza assoluta? Ecco. L'immediatezza, come offerta politica, al momento, non c'è. Non c'è il colpo di pistola dell'assoluto, non c'è la cannonata che poi era a Salle dell'incrociatore Aurora contro il Palazzo d'Inverno, che poi era vuoto. Ma, insomma, non c'è niente del genere. Ci sono varie forme in cui degradano le grandi narrazioni occidentali. Degradano? Ecco, l'immediatezza speriamo di non vederla.